I delegati regionali della CGL si sono ritrovati al Parco Pitagora a Crotone per dar vita all'Assemblea Generale dibattendo su temi scottanti e di stretta attualità come la difesa della Costituzione e l'articolo 32 che dà diritto a tutti i cittadini di un servizio sanitario altamente professionale e l'autonomia differenziata che il Governo propone che tra le tante incognite rischia di destabilizzare proprio il comparto sanitario. Il tutto in vista della manifestazione del prossimo 24 giugno a Roma così come spiegato da Daniela Barbaresi della Segreteria Nazionale. È un'iniziativa di mobilitazione perché vorrei ricordare che noi la prossima settimana, il 24 giugno, saremo in piazza a Roma assieme a una rete molto ampia di associazioni che vanno dal mondo laico al mondo cattolico, oltre 60 associazioni proprio per rivendicare la tutela del diritto alla salute. L'articolo 32 della Costituzione che vorrei ricordare è diritto fondamentale. Però va applicato, va attuato, va garantito ai cittadini e lo dico da una realtà come la Calabria che da questo punto di vista i propri cittadini vivono in condizioni di forte difficoltà da questo punto di vista. Noi abbiamo bisogno di adeguati finanziamenti, di rifinanziare adeguatamente il Servizio Sanitario Nazionale, organizzarlo, garantire il personale necessario per tutelare i diritti dei cittadini, il diritto alla salute ai cittadini della Calabria come ai cittadini di qualsiasi altra regione del nord. Perché oggi le diseguaglianze e le ingiustizie tra le persone e tra i territori sono troppo ampi e insopportabili. I temi delle diseguaglianze purtroppo attraverso anche questo disegno di legge Calderoli colpisce soprattutto la sanità, così come gli investimenti in lavoro. Tra l'altro oggi sappiamo che Calderoli è nuovamente in Calabria, quindi gli vorremmo ribadire nuovamente che quel tema, soprattutto sulla salute, sul lavoro, sulla scuola, perché il tema dell'istruzione e della scuola sono fondamentali, sono elementi divisivi. Noi siamo in mobilitazione, oggi facciamo questa giornata di mobilitazione, ma il 24 di giugno, sabato prossimo, saremo a Roma perché il diritto alla salute, come dicevamo prima, è un diritto fondamentale. In Calabria è un diritto negato, c'è un appiattimento sulla sanità privata, abbiamo detto che bisogna rivedere gli accreditamenti, così come bisogna fare questo grande piano di rassunzioni nel settore della salute. E quindi da questo punto di vista il tavolo a duce, il tavolo del governo, dovrebbe dare una mano alla regione Calabria. E poi bisogna fare soprattutto velocemente sull'emergenza e urgenza. Non è possibile che le persone muoiano perché le ambulanze non sono medicalizzate e viaggiano senza i medici a bordo. Questo è un fatto grave anche per un paese civile, così come un fatto grave è la tenuta dei nostri pronto soccorso e il riordino della rete ospedaliera. Abbiamo chiuso gli ospedali e non abbiamo dato più salute pubblica ai nostri cittadini.